Abbiamo firmato con Ferrovie Nord Milano e Trenord, principale gruppo di trasporti della regione Lombardia, il primo contratto per la fornitura di treni ad idrogeno. Siamo convinti che l'idrogeno porterà il cambiamento nel trasporto su rotaia e su strada verso un sistema energetico pulito e privo di emissioni. L'energia viene fornita attraverso la combinazione dell'idrogeno che è immagazzinato nei serbatoi con l'ossigeno dell'aria esterna. L'unico prodotto di scarto di questo processo è un mix di vapore acqueo e acqua di condensa, non vengono assolutamente generati né particolato né anidride carbonica oppure altri gas serra. Sostenere la transizione energetica e la decarbonizzazione nei trasporti è al centro della nuova strategia di Alstom in Motion che ha fissato obiettivi ambiziosi per il 2025. Principali obiettivi sono sicuramente la riduzione del 25% del consumo di energia rispetto al 2014, l'approvvigionamento di energia dell'azienda al 100% da fonti rinnovabili. Terzo punto importantissimo è limitare efficacemente l'impatto ambientale in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Alstom si è assunta degli impegni precisi in termini di sostenibilità, aderendo all'iniziativa del Global Compact delle Nazioni Unite che invita le società a mettere in atto un insieme di valori fondamentali nell'ambito dei diritti umani, degli standard occupazionali, dell'ambiente e dell'etica. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!